Ciao ai suoi fighetti, qua è Sikes e sono tornato in questo nuovo video perché oggi devo spiegarvi una faccenda che è successa a me grazie a Youtube o per colpa di Youtube, grazie no perché ci ho perso tutto quindi non direi grazie proprio a Youtube Regà, la faccenda è che Youtube mi ha tolto un bordello di iscritti perché, partiamo subito, perché Youtube mi ha tolto un bordello di iscritti perché erano inattivi e chi ha gli iscritti privati può Youtube togli gli iscritti perché non so questa nuova legge del cazzo scusate ma Youtube se tu hai iscritti privati ti toglie quelli inattivi, io vi dico la verità, io avevo 72.000 iscritti e bensì sono rimasto con 28.000 iscritti, bensì ho perso bene più di 40.000 iscritti, pensate un po' che culo e rigà, bene, questo per colpa di chi? per colpa di Youtube, perché Youtube ha deciso con questa nuova legge di togliere gli iscritti quelli inattivi e rigà, tu voi direte adesso ma, vabbè dai ti ho tolto gli iscritti inattivi che cazzo te ne frega no perché io quegli iscritti comunque me li ero fatti col lavoro, non è che io me li ero fatti così nel senso questa cosa qua è successa anche un amico che si chiama GTA V qualcosa, non mi ricordo come si chiama comunque per chi non crede che io avevo 70 di miei iscritti lascio lo screen qua, dei miei iscritti prima di che mi togliessero e rigà me li han tolti perché ce li avevo inattivi, quindi rigà adesso io ho 28.000 iscritti quindi li ho messi pure pubblici così nel caso fossero di nuovo inattivi non li perdo di nuovo infatti adesso voglio vedere i miei iscritti dopo questo video, tipo dopo un giorno di questo video se no è inutile mettere il video e allora rigà io spero che voi mi aiutate di nuovo e dite a tutti i vostri amici di iscrivervi e non so rigà dovete darmi una mano perché qua non ce la posso fare da solo, mi serve tutta la vostra mano e regà io questo video non sarà nemmeno montato, sarà un video sforo e non lo so regà ho perso tutto regà se volessi darmi una mano con un bel like e iscrivervi al canale e attivare la campanella sarei contentissimo ho messo pure gli iscritti privati, cioè privati adesso, pubblici non lo so regà io spero di tornare ai livelli di prima perché sono veramente dispiaciuto di questa cosa più che dispiaciuto anche schifato di youtube, di questa legge qua che ha messo quindi regà se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarmi iscrivervi al canale, attivare la campanella e nulla regà condividetelo con i vostri amici se volete sapere la schifo di youtube e se volete farli youtuber mettete gli iscritti pubblici e nulla regà, non mettete mai privati gli iscritti mi raccomando regà e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao